Nell'occhio del ciclone attaccato da più parti, il sindaco di Trapani difende la sua proposta di conferire la cittadinanza onoraria alle ONG. Crisi idrica a Palermo del 7 ottobre parte il razionamento dell'acqua nel capoluogo siciliano per un giorno a settimana. Bronchio Little Pharmaco sarà gratis per tutti, il Ministero della Salute fa dietro front dopo le polemiche per lo stop in alcune regioni in piano di rientro tra cui la Sicilia. Buonasera e ben ritrovati al nostro appuntamento serale, partiamo subito dal processo Open Arms, insulti e minacce per aver chiesto la condanna del Ministro Matteo Salvini. Sentiamo. Nel mirino il 3 pm del processo Open Arms, insulti e minacce via social ma anche pesanti lettere intimidatori per i sostituti Marzia Sabella, Geri Ferrara e Giorgia Ricchi. La procuratrice generale di Palermo di Asava ha lanciato l'allarma al Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. I 3 pm lo scorso 14 settembre avevano chiesto la condanna a 6 anni di reclusione per Matteo Salvini. La vicenda risale a 5 anni fa. Salvini, che all'epoca dei fatti era Ministro dell'Interno, imbedì lo sbarco a Lampedusa di 147 migranti soccorsi da una ONG spagnola. Da qui l'accusa di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio. Il Ministro rischiava fino a 15 anni di reclusione. Il posto doveva essere rilasciato senza indugio e subito il Dineco è stato il spregio delle regole e non per proseguire un disegno governativo, aveva detto la procuratrice aggiunta Marzia Sabella a conclusione di una lunga requisitoria. Il Dineco, consapevole e volontario, ha leso la libertà di ognuna delle 147 persone e non c'era ragione, aveva poi aggiunto. In questo processo non ci sono state le persone offese. La maggior parte di loro è irreperibile, ma non sono né clandestini né criminali. Mai nessun governo e mai nessun ministro nella storia è stato messo sotto accusa e processato per aver difeso i confini del proprio paese, la replica via social di Salvini. Secondo il PM di Palermo, però, il ministro avrebbe agito nel 2019 non per una strategia concordata col governo Conte, come invece sostiene la difesa, ma per l'interesse ad aumentare il proprio consenso elettorale facendo leva sulla lotta all'immigrazione clandestina. Per l'accusa, poi, non c'era alcun pericolo di terrorismo a bordo della nave e dunque non c'era alcuna necessità di proteggere la sovranità dello Stato. Frattanto, attaccato da più a parti, il sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, difende la sua proposta di conferire la cittadinanza onoraria alle ONG impegnata a soccorrere in mare i migranti. Secondo me c'è un po' di circo mediatico, molti esponenti della Lega, di Fratelli d'Italia non sanno come fare per pigliarsela con i magistrati che hanno osato, a loro dire, mettere sotto processo un politico e dunque si scarico su di me. Sono disonesti dal punto di vista intellettuale. La nostra proposta del mese di giugno del 2024, poco dopo che il Tribunale di Trapani dice che questi signori che fanno i volontari, da sette anni indagati a Trapani, di fatto salvano vite umane. Non hanno nulla a che fare con i delinquenti che sostanzialmente sequestrano o fanno commercio di esseri umani nel Mediterraneo, che secondo me questi bisognerebbe pigliarli, se siano capaci, come paesi d'Europa, buttarli in un pozzo e via. Peraltro parliamo di persone di equipaggio, di volontari. Medici senza frontiere vi dice qualcosa? Save Decidere vi dice qualcosa? Di chi stiamo parlando? Dunque tutta questa caciara che sta facendo alcuni esponenti regionali, nazionali, europei, che più ne ha più ne metta, della Lega e di Fratelli d'Italia, ma a me fa né caldo né freddo. Dico semplicemente una cosa che da sindaco estracomunitario di Trapani mi ha insegnato una cosa, che questa è la città dei pescatori, dei marinai, che in mare non hanno mai lasciato morire una persona. Ad attaccarla però è anche Mimmo Turano, suo alleato. Io sono alleato intanto con la lista Trapani tua, punto primo, due. Non ho alleati che a me risulti, fino a prova contraria del tesseramento di questi signori, con tesserati della Lega. Dopo di ciò io credo che farebbero bene alcuni, anche loro, ad allearsi con la propria coscienza. C'è una carta costituzionale, c'è la carta dei diritti umani. La buttiamo a mare perché di mezzo c'è un processo? Bene, siccome strumentalizzazioni io desidero che non ce ne siano, ho detto, che formalmente riproporrò il punto all'ordine del giorno per la cittadinanza onoraria, al personale, ai dipendenti, all'equipaggio dell'ONG. Sì, torno a ripetere, medici senza frontiere, se vi decidono, eccetera, il giorno dopo che si chiude il processo a Palermo di Salvini. La pagina della politica a Trapani si ricompone il gruppo consigliare che fa capo all'assessore Peppe Laporta. Cambiano ancora una volta gli equilibri all'interno del Consiglio Comunale di Trapani. Nella seduta di ieri, infatti, è ritornato il gruppo consigliare Trapani al centro, che riprende la lista presentata durante le scorse elezioni amministrative con capolista l'assessore Giuseppe Laporta, il quale dimostra ancora una volta la sua capacità di amalgamare le diverse anime moderate che fanno riferimento a lui e al suo percorso politico e amministrativo. Trapani al centro ha all'interno i consiglieri Giuseppe Peralta, che sarà capogruppo, Daniela Barbara, vice capogruppo, e Claudia Labarbera. Si tratta di consiglieri che prima del ritorno di questo gruppo consigliare facevano parte del gruppo misto. Salvatore Daedone e Sonia Tumbarello, invece, confluiscono nel gruppo misto. I due consiglieri, che si sono dichiarati indipendenti e che appoggiano Sud e Chiamanord, hanno però confermato la loro presenza in maggioranza. Una decisione è quella di Daedone Tumbarello, che non creerà dunque problemi all'assessore Enzo Abruscato, che proprio nei due consiglieri aveva il riferimento in aula consigliare. Cambiamenti anche nel gruppo misto. Daedone sarà capogruppo, Fileccia il vice capogruppo. In maggioranza dunque si rafforza l'assessore La Porta, che adesso ha il proprio gruppo consigliare. Adesso parliamo di crisi idrica a Palermo. Dal 7 ottobre parte il razionamento dell'acqua per un giorno a settimana. Dal 7 ottobre il servizio di erogazione dell'acqua sarà sospeso un giorno alla settimana nei vari distretti di Palermo come parte di un piano sperimentale adottato dall'AMAP per fronteggiare la grave emergenza idrica che sta colpendo tutto il territorio siciliano. La decisione è stata presa in accordo con la cabina di regia istituita dalla Presidenza della Regione siciliana in seguito alle riduzioni della portata d'acqua immessa nel capoluogo e nei comuni dell'area metropolitana. L'azienda municipalizzata ha spiegato che l'aumento della domanda idrica, tipico della fine dell'estate a causa del rientro dei residenti, della ripresa delle attività scolastiche e della presenza turistica avrebbe potuto causare significative riduzioni della pressione in rete con conseguenti interruzioni dell'erogazione dell'acqua durante le ore di maggiore consumo. Il sistema di approvvigionamento idrico di Palermo e dell'area metropolitana dipende in gran parte dagli invasi, la cui capienza a metà settembre è risultata inferiore del 65% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno con un volume utile disponibile di circa 22 milioni di metri cubi. Nonostante le misure di mitigazione adottate negli ultimi sei mesi che permettono di garantire l'approvvigionamento almeno fino a dicembre, la situazione rimane critica. Tra le soluzioni proposte, AMAP ha avviato una serie di interventi strutturali per ridurre la dipendenza dagli invasi, come l'acquisizione di nuovi pozzi e la realizzazione di interventi per la riduzione delle perdite fisiche. Il piano sperimentale di razionamento potrà subire modifiche per minimizzare i disagi e ottimizzare il recupero delle risorse idriche. Parte la campagna Liberiamoci dalla plastica promossa dall'autorità di bacino della Presidenza della Regione Siciliana. Liberiamoci dalla plastica e questo è il titolo della campagna promossa dall'autorità di bacino della Presidenza della Regione Siciliana. La Sicilia, attraverso l'autorità di bacino del distretto idrografico, ha ottenuto un finanziamento di 869 mila euro da parte del Ministero dell'Ambiente nell'ambito della legge salvamare che prevede il recupero delle plastiche in mare e nelle acque interne. La Regione Siciliana è la prima in Italia ad attivarsi per la raccolta dei rifiuti plastici nei fiumi. L'obiettivo della campagna, oltre che sensibilizzare i cittadini, è rimuovere la plastica già presente nei fiumi e sui litorali attraverso il posizionamento di barriere antiplastica ed evitare così l'inquinamento. Queste barriere antiplastica verranno stese trasversalmente nei corsi d'acqua fino a convergere su una delle sponde dove la plastica e tutti i materiali galleggianti e i rifiuti solidi urbani verranno raccolti dalle partecipate comunali e smaltite in maniera corretta. Verrà così ridotta la quantità di plastica che si riversa in mare. Sei i fiumi e i comuni siciliani che riceveranno le risorse per costruire le trappole. Tre sono in provincia di Ragusa, gli altri tre si trovano nella provincia di Catania, Grigento e Ragusa. Dobbiamo quindi agire in modo efficace intervenendo alla fonte per risolvere questo problema. Sono i fiumi l'origine della gran parte della plastica in mare. Su questo dobbiamo comunque agire. Var ridotto liquidamento creato dal trasporto dei rifiuti plastici che galleggiano sui corsi d'acqua. La legge Salva Mare mette in campo misure per rimuovere dei fiumi, i rifiuti sensibilizzare i cittadini. È un percorso che prevede il coinvolgimento delle associazioni non proprie di difesa ambientale. Abbiamo puntato sull'autorità di Pacino, quale attore di primo piano nella riduzione dell'impatto. È un'azione che abbiamo inteso di spiegare guardando all'origine dell'inquinamento del mare. Cambiamo argomento dopo le molemiche che hanno destato Scalpora. Il Ministero della Salute ha fatto dietroffronto e ha stesso il vaccino antibronchiolita a tutte le regioni d'Italia, comprese le regioni a piano di rientro, tra cui la Sicilia. Cresce la preoccupazione per la nuova stagione epidemica del virus respiratorio sincenziale, una malattia che colpisce in modo particolare neonati e bambini piccoli, causando gravi forme di bronchiolite. Lo scorso anno il bilancio è stato drammatico, con 15.000 ricoveri ospedalieri, di cui 3.000 in terapia intensiva e 16 decessi. A suscitare polemiche è stata la recente decisione del Ministero della Salute riguardo all'anticorpo monocronale Nilservimab, in grado di ridurre del 90% il rischio di ospedalizzazione. Il Ministero della Salute ha infatti avviato un dialogo con l'Agenzia Italiana del Farmaco per rendere disponibile Nilservimab a carico del Servizio Sanitario Nazionale, permettendo così la somministrazione gratuita in tutte le regioni senza oneri per i cittadini. La nota inviata dal Ministero alle regioni sottolinea la necessità di trasferire il farmaco dalla fascia C a pagamento alla fascia A a carico del Servizio Sanitario Nazionale, in considerazione dell'aumentata incidenza del virus respiratorio sincenziale nella popolazione pediatrica. Inizialmente il Ministero aveva escluso dalla somministrazione gratuita del farmaco le regioni del centro-sud in piano di rientro dal disavanzo sanitario, e dunque Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia, sollevando un'ondata di critiche. Tuttavia, con una nuova circolare, è stato annunciato un cambio di rotta. Il NIR Servivamp sarà disponibile gratuitamente su tutto il territorio nazionale, pur non essendo incluso nei livelli essenziali di assistenza. Questa decisione rappresenta un importante passo avanti per garantire una protezione uniforme e tempestiva ai nonati di tutto il paese contro il virus respiratorio sincenziale. Ed è stato inaugurato al Campo Ostacoli della Favorita il sessantesimo concorso ippico internazionale di Sicilia, presente anche il presidente della regione, Renato Schifani. Inaugurato il sessantesimo concorso ippico internazionale di Sicilia al Campo Ostacoli della Favorita a Palermo, l'iniziativa è organizzata dalla regione siciliana e dal comune di Palermo con il patrocino del Ministero dello Sport e i giovani con il supporto tecnico di Fiera Cavalli Verona. Presente all'inaugurazione del concorso anche il presidente della regione, Renato Schifani. La seconda edizione, più rafforzata rispetto a quella dell'anno scorso, anno in cui abbiamo riportato a Palermo dopo 12 anni di assenza questa grandissima competizione internazionale. Io ringrazio l'amministrazione comunale naturalmente e la stessa regione che attraverso le sue strutture ha contribuito sia finanziariamente ma anche strutturalmente al rafforzamento di questa iniziativa in senso lato. Il mio auspicio, il mio impegno, credo anche quello del comune, sarà quello di utilizzare questo polmone di verde ben attrezzato anche per altri tipi di incontri, altri tipi di manifestazione perché lungi di me l'idea di farlo esaminare e apprezzare dei palermitani e dei siciliani soltanto una volta all'anno. Non basta, lavoreremo perché sia un punto di ritrovo dei palermitani e dei siciliani in momenti come questi. Termina qui questa edizione del nostro telegiornale adesso la linea Vallo Sport vi ringrazio per averci seguito buona serata a tutti voi.